buona giornata oggi sono solo andiamo alla ricerca dei beniamati giro senza pretese vediamo cosa mi porta la giornata tra poco sono in arrivo ciao e si oggi sono solo io il mio bastone mio zaino la mia digit ho dimenticato la telecamera perciò userò l'iphone e comincio a rancare un'oretta di salita e sono su e vediamo che mi aspetta il posto è stupendo sentiero sinerpica un sacco di colori di profumi a liquirizia selvatica mi aspetta la cima vediamo se riesco arrivare al faggio o mollerò prima tutto dipenderà dal mio ginocchio a dopo è ancora un po' buio mezz'ora che salgo vedi quel colore mi attira andiamo cos'è lo guido lui dall'estivo ho già un po' mangiato anzi sono due due estivi sono le 5 e mezza 5 e 40 ecco gli altri e dai qualcosa c'è speriamo che sia una bella visaglia tutti i bocciotti freschi tutti i bocciotti freschi farò un giretto su qui e vediamo è ancora lunga a dopo ho appena finito i pini ho cominciato a fare un caldo ho anche una sete ma bisogna razionare l'acqua perchè oggi farà caldo sicuramente sono sparato su al ritorno guarderò dove ho trovato i primi 5 li guarderò intorno ma adesso voglio arrivare su a vedere com'è eventualmente mi riabbasserò a dopo massaggio sulla prima frana devo arrivare là seconda cima ragazzo in questo momento transitorio niente funghi non ho ancora spuntato il sole sono a metà strada giornata piacevole per il momento fresca anche se l'afa si sente ma qui negli spazi aperti si respira ma dopo sono arrivato nel quercio nel misto quercia e facci di proprio cercarti qui la quercia e sotto ci sono freschi freschi meschi va così più vecchio vediamo se ci divertiremo se ci divertiremo sono un bel ripido ho visto uno sto scendendo a prenderlo è anche bello questo si entra si entra vede fra le foglie la devo spegnere però non riesco se non andare a prenderlo ero nel cerrofaggio tutta roba vecchia tutta roba vecchia già aperta adesso sono arrivato nel misto quercia e castagno qualcosina più fresco c'è sono ripido c'è un bocciotto fresco 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 qualità altro piccolo lasciamo giù speriamo che adesso nel misto col castagno sia meglio ora siamo proprio ripidi guardate un altro bocciolino i piedi della quercia anche lui fresco fresco speriamo un po' di questi sono contento dopo uno bello baciato dal sole vicino alla spia una rubescenz ottima spia dei porcini un bel tassellone questo che schiena è proprio bella e comincia a piacermi questa costicina altra fungaietta altra fungaietta eccolo lì piccolotto bello patanino bella bucciolone aia ora c'è un altro dei freschi con la sua macchina e bisogna andare piano piano a tutti i giovani vabbè sempre così ne ho visto uno tutto mangiato ora due ma tutto mangiato guardi intorno guardi intorno guardi intorno io li vedo che c'è il sole ora li faccio vedere belli freschi qua c'è un altro bello fresco questo è un bel trio peccato che sono il sole pieno bene 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 guardate che belli ok un bel tassellone nell'erba tutto il sole dove c'è la macchia di sole guarda un bel tassellone bello questo sta bello sta bello bene bella costina bene bella costina si i tasselli con un videoconferenza si insomma ah cazzo ben gestione è il mio fratellone ah 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 ecco sto ridiscendendo sono ripassato nel sasso dove l'avevo trovato stamattina anche gli altri due o tre per riguardare meglio infatti tacchete io non l'avevo visto stamattina vedi il patatone era buio un bel tassellone adesso riguardo bene bene salta fuori qualcos'altro ciao per finire la mattinata un bel bagnetto dopo una scarpinata una arrancata nei boschi un bel bagnetto ciao ciao